musica what the aaaah aaaah musica 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 auguna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 siamo tornati su mod cp 2015 piove senti come piove 1 e 55 è il tempo da battere per questa qualifica per poter arrivare tendenzialmente frena ok devo frenare di mamma mia raga come promette sta gara come promette 1 e 55 1 e 55 secondo me sarà quasi impossibile fare un buon tempo ve lo dico e che costa pioggia ma che cazzo vuoi fare già ho usato un rewind ricordatemi vabbè me lo ricorderò da solo che quel rettilineo la bisogna frena assai ragazzi poi ovviamente sulla pioggia la moto già frena di meno i tempi di risposta sono differenti ovviamente sapete ve lo ripeto ogni volta che non ho ancora girato mai su questa pista in questa classe è la prima volta perché ormai zompo le prove le zompo perché tanto non ci faccio niente questa l'ho impostata male però va bene tanto sapete che dopo continuerò a girare ancora un po' eh raga raga non credo di riuscire a fare un buon piazzamento sto giro eh secondo me non ce la faccio secondo me anche perché sta pista qua è una di quelle eh me la ricordo ok me la ricordo ragazzi me la ricordo assolutamente me la ricordo ah rottura di palle sta pista qua mamma mia mamma mia però già sto cominciando a guidare un po' meglio eh non so se ve ne siete accorti che poi tra l'altro qua la pista è completamente fracica non c'è un posto dove andare per avere più grip non c'è qua ok mi devo ricordare di frenare molto di frenare molto anche là d'accordo ma in realtà sta pista devo frenare da tutte quante cose ok qua l'ho presa un pochino troppo larga eh qui l'ho presa un pochino troppo larga rettilineo è questo è il rettilineo quello là dove devo frenare una cifra questo qua raga frena 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 no raga ancora di più ancora di più ah me la ricordo perfettamente sta cosa perché qua posso fa no qua mi danno il coso eh vabbè va bene va bene va bene d'accordo ragazzi io sicuramente mi farò un altro giro perché questo non è andato assolutamente bene ci vediamo in gara dai ragazzi eccoci qua siamo in pista ma ve lo dico è andata malissimo siamo diciannovesimi raga quanto è complicata sta pista non ne avete idea veramente è una delle piste che odio cioè questa proprio la odio non è che è difficile questa la odio proprio è proprio differente questa me dà proprio sulle palle ok siamo usciti molto aggressivi dalla curva eh siamo usciti molto aggressivi dalla curva un'ottima curva in realtà molto bene siamo decimi ok simeon stai attento stai attento simeon che qua che qua ci vuole un attimo a casca ok siamo ritornati decimi davanti ci abbiamo calio qua ok io freno già da qua chi se ne frega chi si è visto si è visto l'ho impostata un po' male purtroppo chi è chi è chi è chi è chi è che ha fatto incidente ma dietro di noi chi se ne frega io speravo tanto tanto avanti ci speravo tanto ma ovviamente non ci siamo riusciti cioè non è che non ci siamo riusciti non l'hanno fatto ok ah mamma mia ok ok ottavi ottavi possiamo ancora giocarcela un po' eh vai così vai così siamo sesti e loro non stanno tanto distanti loro non stanno tanto distanti morbidoso togliete togliete morbidoso togliete non mi gira la moto ok qua devo cercare di farla bene questa curva qua eh ok già se arriviamo sesti secondo me va pure troppo bene come siamo partiti frena frena qua morbidoso mi riprende mi hanno buttato fuori pista oh c'è uno che non si ferma là davanti eh tacci sua guarda c'è pure foglia che spinge malamente sto giro eh ma secondo me sto giro sarà una guerra contro morbidoso ve lo dico probabilmente molto probabilmente guerra contro morbidoso perché è l'unico a cui riusciamo a stargli dietro gli altri non credo di riuscire a prendere ma ovviamente ci proverò ma raga sta pista è impossibile sta pista è impossibile frena ti prego frena ok 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 mamma mia abbiamo rischiato tantissimo no io mi concentro con su morbidoso dai io mi concentro su morbidoso poi se gli altri li recuperiamo tanto di cappello sono contento qualcuno ha fatto l'incidente non so chi forse dietro di noi raga mamma mia se stanno a cappottare uno a uno esci veloce ma che cazzo te ne frega vai fai così mamma mia grandissimo l'abbiamo presa un po' brutta eh ma c'è Zarco che non si ferma oggi porca miseria c'è Zarco che non si ferma regà no 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 cioè ce ne stanno due che stanno girando completamente a dei livelli tutti loro e vabbè ok ok eh Zarco è prima dietro c'è l'opus c'è poco da fa vediamo un po' secondo giro secondo giro ancora abbiamo il rewind provo a frenare un pochino dopo in realtà è andata bene in realtà è andata bene madonna questi tre questi tre con un po' di culo con un po' di fortuna raga ok dai prendiamoli rins batman e foglia dovrebbe essere freniamo qua noi che purtroppo ci abbiamo questo problema che dobbiamo frenare un pochino prima rispetto a loro che le prendono perfette calcolate proprio al millesimo non è che tante volte Zarco casca eh mamma mia sto frenando con una premura incredibile ok ho un po' sbagliato un po' sbagliato ma non ci posso fare niente ho tentato di darci giù pesante e invece abbiamo ottenuto una cosa contraria però se riusciamo a uscire solo una curva più veloce questa qua mi sembra che noi ce ne usciamo abbastanza veloci mi sembra eh vai così mamma mia raga mamma mia ragazzi ok uno l'ho demolito uno l'ho demodito ciccio gamer sudato oddio batman ok 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 va bene così ok va bene così batman purtroppo ha avuto un incidente l'avete visto tutti non sappiamo il perché Chi sarà stato mai Non si sa Ok Vai così Apri tutto Apri tutto Non me ne frega niente Apri tutto Terzi 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 Dai 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 Qua devo provare a fare una cosa Raga Frena più tardi Ok Abbiamo frenato giusto Qua Ovviamente possiamo riprendere un po' a zarco Ma non è che caschi eh L'ultima curva Cosa Sorpresa No Ok Vai Ragazzi che garona Ragazzi che garona Ragazzi che garona Diciannovesimi Terzi Incidenti strani Ma terzi Oh Ci sta Terzo sudato Secondo zarco Ok Tre secondi ci hanno dato Terzi Pari merito con Batman Sulla classifica generale Ci abbiamo 12 punti Low Che fatica ragazzi Quanti crediti ci abbiamo 101.000 Ce ne mancano 200.000 Forse ci arriviamo Forse ci arriviamo Non lo so Non lo so ragazzi Questo terzo posto è un ottimo risultato E può essere di buon auspicio per le gare che verranno Ok che verranno Signori Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua Se il video vi è piaciuto Pollice nel su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Con il vostro switch Che però Tanta Rava Ciao Ciao Ciao